Il corso Grandezze Periodiche Alternate e Sinusoidali consente di riconoscere le caratteristiche delle grandezze fisiche che presentano andamento periodico generico o alternato o ancora sinusoidale. Saper riconoscere queste caratteristiche è di fondamentale importanza per una completa comprensione delle reti elettriche in regime sinusoidale nel quale ricadono la gran parte delle applicazioni di tipo industriale e civile. Particolare attenzione viene posta alla rappresentazione delle grandezze sinusoidali utilizzando i fasori e i numeri complessi, in modo da padroneggiare i metodi di calcolo più efficienti per l'analisi delle reti in regime sinusoidale. Si affrontano i concetti di anticipo e ritardo e si impara a effettuare i calcoli con i numeri complessi. Il corso è accompagnato da molti esercizi di calcolo per valutare e rafforzare le proprie competenze.